Sei tu il nostro ospite speciale, porte aperte oggi negli istituti scolastici San Francesco e Paolo Emiliani Giudici di Gela nell'ambito dell'Open Day promosso dal dirigente Giovanni Palazzolo. Una giornata di festa per docenti, alunni e genitori, un coinvolgimento a 360 gradi. È stata l'occasione per far conoscere i nuovi indirizzi presenti nell'istituto, i profili e gli sbocchi professionali, le strutture, i laboratori e le varie attività formative. Settimana molto intensa nei due plessi della San Francesco sia qui che alla Giudici perché abbiamo tre incontri di Open Day, uno oggi, uno sabato e uno il 4 febbraio. A che serve l'Open Day? Sono delle giornate in cui tutta la scuola si mobilita per presentare l'offerta formativa a chiunque volesse iscriversi, sia per la materna, sia per la prima elementare e sia per la prima media. Nel corso di queste giornate i ragazzi nostri saranno felici di illustrare tutti i progetti, tutta l'offerta della scuola, compresi alcuni concerti fatti dalle due orchestre, sia quella della San Francesco che quella della Giudici e in più sarà un'occasione per far conoscere alla città le nostre due sedi.